Buongiorno a tutti ragazzi, sono Girobe, per chi non lo sapete sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università ed è anche socio di una società di contabilità e consulenze per le aziende e oggi finalmente dopo 6 mesi in cui cercate di perfezionare il mio file Excel vi permette di acquistarlo questo perché ho deciso di metterlo in vendita tramite abbonamento perché voglio finanziarmi dei progetti riguardati il canale quindi tutto il ricavato di questi abbonamenti qua verrà reinvestito sul mio canale creando magari un nuovo logo, un nuovo banner che ho intenzione di cambiare a raggiungimento di 10.000 iscritti tra l'altro vi ringrazio visto che abbiamo raggiunto i 9.000 iscritti, vi ringrazio davvero di molto e a raggiungimento di 10.000 iscritti ho deciso che darò una rivoluzione al mio canale e per farlo ho bisogno di autofinanziarmi perché io sì lavoro però purtroppo facendo anche l'università non ho troppo tempo appunto per lavorare e quindi sto cercando di raccimolare un po' di soldini tramite il canale di YouTube e lavorando però purtroppo i soldi che sto facendo non sono abbastanza detto questo vi voglio presentare quelli che sono i vari piani di abbonamento che ho deciso di fare ho fatto un piano, un entry level a 0,99 perché ho deciso che magari qualcuno che volesse magari offrirmi un caffè al mese visto che permetto a tutti di guardare i miei contenuti gratuitamente ad esempio e soprattutto secondo me un video che è un valore aggiunto per tutti voi è le tre azioni che vi consiglio ogni mese e come potete vedere qua adesso vi farò vedere il rendimento che abbiamo ottenuto come ho fatto a vedere nell'ultimo video il rendimento che abbiamo ottenuto fino ad ottobre tramite le azioni che vi ho consigliato di circa un 9,32% di profitto di cui 839,18€ di rendimento se aveste investito 1000€ su ogni azione quindi io penso che comunque questi video qua possono essere davvero un valore aggiunto per tutti voi ed è per questo che se qualcuno di voi ha deciso di supportarmi potete farlo ovviamente senza ottenere nessun vantaggio in particolare potete farlo tramite l'abbonamento a 0,99€ tra l'altro per chi non lo sapesse per abbonarsi vi lascerò o il link in descrizione oppure mi pare che non so se da telefono l'ho vediato o no però di fianco al tasto iscriviti dovrebbe esserci un tasto blu con scritto abbonati e lì è molto molto semplice nel caso in cui non lo vedeste io vi lascio il link in descrizione ci cliccate e vi comparirà una pagina in cui potete farlo senza impegno e se avete piacere di supportarmi potete farlo così i vantaggi iniziano dal secondo livello ovvero da 4,99€ e in questo livello qua scelgo me trovate tre vantaggi molto molto interessanti il primo è che rilascerò il mio numero Whatsapp in modo tale che in qualsiasi momento io tanto ho spesso per lavoro il telefono in mano quindi in ogni momento potete chiedermi consigli e informazioni sulle azioni da comprare io ovviamente non sono consente finanziario però diciamo che studiando economia e investendo un po' di gavetta l'ho fatta poi vi offro anche l'accesso completo al mio portafoglio investimenti questo cosa vuol dire che vi lascerò un link dove ogni volta che vorrete potrete cliccandoci sopra entrare sulla mia pagina Wallmine che purtroppo ho deciso di rendere privata solo per gli abbonati ma penso anche giustamente per un po' di privacy e quindi voi potrete tranquillamente accedere a quella pagina lì tramite il link 24 ore su 24, 7 giorni su 7 io l'aggiorno ogni lunedì o comunque ogni giorno in cui vado a comprare delle azioni nuove a questa cosa qua si aggiunge il fatto che a livello 2 appunto quindi a 4,99 euro vi lascerò la possibilità di ricevere il file Excel con il quale io calco il valore delle azioni che è il file che utilizzo per tutte le azioni io ogni volta che analizzo un'azione prima mi faccio il calcolo di quanto possa valere e se vedo che c'è un minimo di immagine di sicurezza allora vado a farmi un'analisi fondamentale quindi mi vado ad analizzare il business dell'azienda i fondamentali e tutto il resto però io parto sempre dal mio file Excel e se vedo che non c'è nessun tipo di immagine di sicurezza allora non vado nemmeno più a farmi un'analisi fondamentale diciamo che è uno strumento che mi permette di scremare tantissime aziende arriviamo al livello 3 che è quello da 9,99 euro che vi permette di ogni lunedì io vi scriverò in privato e vi dirò tutti i titoli che vado ad acquistare perché per chi non lo sapesse io ogni lunedì faccio un piano di accumulo tramite stop picking questo cosa vuol dire che ogni lunedì io prendo 100 euro e li investo in 10 aziende questo perché? perché utilizzo trading 212 che mi permette di acquistare azioni frazionate e quindi è come se io comprassi di fatto un etf perché compro 10 azioni ogni lunedì però queste 10 azioni qua le vado ad analizzare tramite un altro file Excel che ho io dove mi fa vedere quelli che mi permettono di avere un margini di sicurezza più alto e quindi ogni lunedì acquisto 10 azioni il secondo vantaggio che secondo me è importantissimo è che offro una revisione del tuo portafoglio quindi ogni media se avete piacere potete mandarmi il vostro portafoglio dirmi che azioni avete e io andrò a vedere se il livello di diversificazione è buono se il livello sia diversificazione geografica settoriale e in termini di valuta se magari siete sovraesposti al dollaro sovraesposti all'euro o altre cose simili offro una revisione mensile ovvio che a 9,99 euro non è che posso offrirvi quella revisionona non è che posso starli a livello 4 invece ho deciso di dare la possibilità alle persone di chiedermi quale può essere il portafoglio ideale per loro per chi non lo sapesse 3212 offre la possibilità di creare degli aerogrammi questo cosa vuol dire che mi permette impostando le percentuali impostando le azioni che voglio avere in portafoglio di crearmi una torta io in base alle esigenze e alla volontà che avete voi di investire vi creerò una torta più o meno diversificata in base a quello che volete voi ve la girerò in privato voi semplicemente dovrete caricare i soldi e in automatico 3212 vi diversificherà in automatico in base a quello che vi ho impostato io detto questo ringrazio già i ragazzi che hanno deciso di abbonarsi ho visto che vi siete già abbonati in 3 prima che io vi facessi vedere i rali vantaggi questo mi ha fatto molto piacere perché ho visto che c'è stata molta fiducia e supporto al mio lavoro oltre a tutti questi vantaggi qua c'è la possibilità di utilizzare le emoji che potete utilizzare in chat ma quello vi aggiornerò adesso queste qua sono le emoji vecchie che utilizzavo quando ero in live ma queste qua le modificherò e metterò qualche emoji carina inerente al mondo finanziario mentre ogni mese che rinnoverete l'abbonamento vi si aggiornerà in automatico il logo del mio canale di fianco al nome e secondo me questo è un modo per far vedere le altre persone che magari mi seguite da più tempo detto questo ci tengo a precisare che io i vantaggi li aggiornano col tempo cioè questi vantaggi qua non rimarranno fissi per sempre cioè diciamo che sì questi vantaggi che ci sono qua rimarranno fissi per sempre ma ne aggiungerò man mano che me ne vengono in mente infatti tra l'altro se avete piacere di suggerirmi dei vantaggi da inserire nei vari piani scrivetelo pure in descrizione che io sono dispostissimo ad aggiungerli detto questo spero che questo video aggiornamento questo piccolo video aggiornamento vi sia piaciuto lasciate un bel like un commento e vi chiamo al prossimo video video oh 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 Grazie a tutti.